eccomi qua insieme a voi stasera realizzeremo questa bellissima nail art con la tecnica aeropuffing non so se qualcuno di voi conosce la tecnica aeropuffing ok ragazze allora iniziamo perché la questa nail art è abbastanza lunghetta vi volevo raccontare un po della tecnica aeropuffing io mi sono approcciata a questa tecnica perché comunque è una tecnica molto semplice di per sé alternativa all'aerografo perfetto Jessica perfetto grazie alternativa all'aerografo chi non si può permettere all'aerografo o un corso la tecnica aeropuffing è molto interessante si può veramente realizzare di tutto e diciamo che i prodotti sono più o meno quelli le mascherine ovviamente i colori sono diversi perché quelli per l'aerografo sono colori diversi per l'aeropuffing io utilizzerò dei gel nail art dei painting ma eventualmente potete utilizzare anche dei semi permanenti io in questo caso grazie grazie mille ho utilizzato dei gel painting poi vi spiegherò il perché andiamo comunque subito a iniziare la lavorazione allora ragazze fatemi un favore siamo in 7 cliccate tante volte sulle sullo schermo così ci tic toc ci mette nei per te fate tap tap sullo schermo dobbiamo aumentare tantissimo e mi piace finora siamo a 0 14 mi piace grazie grazie mille iniziamo a fare tap tap sullo schermo allora ragazze questo è un magic 5d di michelle nails cc 29 e andiamo a metterlo su tutte e tre le tip sono tre tip quindi lo inseriremo su tutte e tre le trip facciamo due passate la prima passata la sigilliamo senza stare a ad utilizzare la calamita ok per avere un fondo uno sfondo più colorato più acceso eventualmente potreste pensare di utilizzare il nero al posto di una prima passata di di questo di questo 5d ma a me piace di più due passate una passata sottile di katai e poi una un pochettino più corposa per quanto riguarda poi il gioco di di luci lo andiamo a mettere su tutte e tre le tip perché la prima cosa importante da fare è fare lo sfondo creare lo sfondo alla nail art ok quindi mettiamo stendiamo prima una prima passata di katai su tutte e tre le tip 741 mi piace grazie ragazze più mi piace abbiamo più tik tok ci manda nei per te è un orario un po brutto però questa sera ho trovato solo questo questo momento per fare la diretta ecco qui andiamo a sigillare 60 secondi in lampada questo colore nel frattempo ragazze ci prepariamo il gel in painting la mia tavolozza eccolo qua il mio gel painting io utilizzerò questo di moira che è uno dei migliori a mio avviso come painting lo vado a mettere sopra la mia palette questo qui però non è il colore giusto un attimo che cerco il bianco perché questo qui è l'argento allora il bianco eccolo qua io ormai il bianco lo sto terminando perché questo qui sono ragazze dei dei painting veramente favolosi vi consiglio il painting quindi un gel un color gel più spesso più denso perché il semi permanente rischia di scivolare sotto alla mascherina ok i ritagli della mascherina in genere non succede però se non siamo attentissime può capitare quindi evitiamo e quindi utilizziamo un painting che è più spesso più denso ok andiamo a fare la seconda passata di katai eccoli qui guardate che belli sigillati eccoli qui siamo a 1200 mi piace grazie ragazze e andiamo a fare il secondo la seconda passata un pochettino più corposa ecco qua e andiamo lavorare a giocare con la luce del katai con la calamita io utilizzo questa calamita tonda che mi aiuta tantissimo ecco qua che vado lavorare a giocare con il mio katai guardate la meraviglia ragazze questo viene veramente in un batter d'occhio è abbiamo fatto la prima tip così vedete prima tip con i pianeti che metterò lì intorno e andiamo a sigillare in lampada andiamo a fare la seconda la seconda scusate ha il micino nello sfondo andiamo a fare una bella passata abbondante ecco qua e poi facciamo la stessa cosa dall'altra parte ecco qua che lui vedete lui si sposta verso l'alto ecco qua vedete lo sposto è molto semplice lo sposto verso l'alto così mi rimane l'effetto luminoso sopra e sotto l'effetto colorato ed è quello che voglio ottenere con il gatto vedete anche negli angoletti e andiamo in lampada anche lui a sigillarlo il terzo eccola qua abbiamo queste queste stelline sopra e il pianeta sotto andiamo a fare un'altra passata abbondante ecco qua e facciamo la stessa cosa ma dall'altra parte perché io avrò sopra le stelle vediamo se riesco a fare passo un altro po' di colore perché mi è andato via il pigmento così ve lo faccio rivedere giriamo la tip ed ecco qua vedete che si sposta io ho bisogno di avere sopra il blu senza il diciamo così la luce luminoso e sotto invece luminoso questo è il gioco che io voglio avere e il sigillo anche lui ok ora passiamo il matte sulle tip sigillate con il colore polimerizzato dobbiamo passare il matte perché dobbiamo avere una superficie liscia ok perché se no la dispersione del colore mi altera il painting quindi lui è fatto e andiamo a passare il matte passiamo il matte e andiamo in lampada anche questo era polimerizzato e passiamo il matte aspettiamo l'ultima tip e passiamo il matte anche sopra quella potete anche pensare eventualmente di togliere la dispersione e siete a posto però io non mi piace togliere la dispersione del colore perché non mi piace i pigmenti si andiamo a togliere del pigmento quindi preferisco andare a mettere il matte poi andiamo passiamo alla tecnica aeropuffing la tecnica aeropuffing è veramente molto semplice ci serve lui è la spugnetta classica che si vende anche con il con lui però io lo tengo preferisco tenerlo in mano così perché ho più capacità di insomma so dove dove mandarlo esattamente quindi lui che pulisco con con questo che è la diciamo così il rotolo adesivo degli stamping ed è molto 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 semplice ragazze adesso ne aspettiamo il eccoli qua le tre tip sigillate matte guardate che strane il catà è sigillato con il matte particolare e andiamo a creare la prima la prima dobbiamo mettere dobbiamo fare i pianeti i pianeti e le stelline i pianeti vanno inseriti qua però io li inserisco adesso vi faccio vedere con la mascherina queste sono mascherine create apposta per l'aerografo che utilizzo anche per l'aeropuffing sono abbastanza fragili quindi utilizzate le pinzette per spostarle fate attenzione perché comunque sono fragili si possono rompere e le possiamo utilizzare come vogliamo le possiamo mettere veramente come vogliamo ad esempio il primo pianeta lo metto qui sotto e lo vado a inserire ad attaccare la mascherina l'appoggio e poi l'attacco aiutandomi con un pennellino in silicone in questa maniera vado poi ad attaccarla bene ragazze però mi raccomando siate delicate nei movimenti se no vi si rompe tutto ecco qua andiamo a premere bene volendo si può fare anche direttamente con il guanto col dito però ragazze mi raccomando se avete il guanto perché se no non va bene il dito in questa maniera e poi andiamo con la nostra spugnetta tonda a prelevare a prendere il painting bianco vedete ando di sollevare un attimo un po' il telefono così almeno magari vedete meglio scarico un po' il colore e poi vado a colorare in questa maniera premendo leggermente se ho bisogno di altro colore ne prendo dell'altro e caricando il colore che mi serve in quantità che mi serve per far sì che diventi più o meno bianco se lo voglio più bianco carico più colore e gli metto più colore se lo voglio meno bianco avrei dovuto caricare meno colore ok e qui ragazze questa diciamo che non è l'art basica dove non vi faccio vedere sfumature particolari perché comunque non è un corso quindi vi faccio vedere qualcosa di molto semplice sappiate che ci sono varie poi metodi anche per realizzare sfumature quindi creare anche dei degradé delle sfumature sono tecniche un pochettino diverse io il mio pianeta l'ho colorato tutto vado con la mia pinzetta piano piano a togliere la maschera ed ecco che si è formato il mio pianeta il mio primo pianeta se io avessi avuto un colore tipo semi permanente fluido avrei rischiato che mi passasse sotto quindi non sarebbe venuta un pianeta così ben definito intanto siamo a 2100 mi piace grazie ragazze 2100 mi piace grazie mille a tutte ecco qua lo blocco un pochettino lo blocco con la lampada questa qui sposto un secondo il gel con questa lampada qui che è una lampada una mini torcia led vado a bloccare un attimo il gel il gel painting così e poi continuo la mia nail art riprendo la mascherina e mi colloco la mascherina dove voglio far andare l'altro pianeta ad esempio qui più avanti più sopra qui così me la posiziono ecco qui vado sempre a premere con il pennellino in silicone ragazze queste mascherine se siete brave se siete delicate e ci tenete le mascherine durano abbastanza durano molto io ci ho già lavorato parecchio dovete però essere brave delicate ok nei movimenti ok riprendiamo riprendo la mia spugnetta ricarico il colore sfumo un po' sopra la palette per non avere troppo colore e poi vado se io volessi avere un pianeta che si vede non si vede non andrò proprio a diciamo così a toccarla tutta di pancia andrò anche un pochettino di sbieco ok perché sulla pancia c'è caricato più colore sui laterali ce n'è caricato meno adesso io comunque vado a riempirlo bene volendo fare un gioco di prospettive quello più vicino che si vede più vicino è più chiaro è più carico di colore perché si vede di più più illuminato intendo il pianeta quello più spostato indietro è un pochettino più sbiedito come colore perché di luce ce ne arriva meno ok questo è una così per quanto riguarda l'enel art da tenere presente 2007 mi piace grazie grazie ragazze ecco qua ora vado a togliere la mascherina piano piano con delicatezza tolgo la mascherina e mi rimane il pianeta eccolo qui la mascherina la vado a posizionare nel mio libro che poi andrò a pulire non mi metto a fuoco ecco andrò a pulire semplicemente con il cleaner ragazzi mi raccomando si pulisce solo la parte sopra perché sennò poi il sotto l'adesivo perde ora volendo io posso inserire un effetto particolare al pianeta aggiungendo una polverina come la polvere aurora e utilizzo questa di alepas nocce che è iridescente senza andare a polimerizzare il gel painting vado direttamente in maniera molto delicata perché ovviamente è colore non polimerizzato vado a inserire la polverina sul pianeta in questa maniera e poi vado in lampada 60 secondi a polimerizzare bene il primo pianeta che era solo un attimo diciamo così fermato bloccato e il secondo perché non l'abbiamo per niente polimerizzato passiamo poi alla seconda mascherina che è lei andremo a creare degli effetti luminosi di luce grazie ragazze grazie le farfalle le ho create se vai nel mio profilo ci sono c'è anche il tutorial l'ho creato con le farfalline così ho fatto una tecnica un po' diversa e ho creato anche le farfalline sempre con la tecnica aeropuffing però ho utilizzato le polveri sono molto belline anche loro c'è il mio tutorial lo trovate sia nel canale youtube che è proprio il tutorial completo grazie 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 mille ma c'è anche il tutorial un pochettino più corto qui nel mio tiktok ecco qui vado a togliere l'eccesso di polvere aurora ecco qui vedete che è rimasto solo sul pianeta guardate che bello e ora vado passo alle stelline che sono loro sempre con delicatezza le tiro su se vedete che sforzate si passa dall'altra parte perché se no si sforza troppo e vado a creare un gioco di stelline e di luci sempre con il bianco volendo si possono utilizzare anche altri colori io in questo caso preferito utilizzare il bianco così per farvi vedere bene la tecnica e basta però volendo si possono utilizzare qualsiasi altri tipi di colore la vostra fantasia ragazze le nail art sono una volta capita la tecnica la nail art è proprio questione di fantasia andiamo a anche qui ad appiccicare bene la mascherina in maniera delicata ok e poi riprendiamo il nostro painting bianco e torniamo a fare il lavoro di prima andiamo ecco qua questa è la prima e poi andiamo sulla seconda questa volta la mascherina non devo spostarla perché ho già le due stelline dove voglio che siano se voglio che si vedano di più carico più colore se voglio che siano meno evidenti ne carico meno oggi non guardiamo le sfumature perché quelle sono tecniche un po' particolari che ci vuole un corso e fatica da imparare attraverso un tutorial ecco qua le nostre stelline guardate che carine le blocco un attimo con la lampada led torcia perché non voglio fare disastri ragazze perché basta veramente un niente per rovinare una nail art e poi passo a farne almeno un'altra qui sotto ce ne sta bene una qui ok riprendo il mio bianco e vado anche con lei è molto semplice ragazze lavorare con con questa tecnica e anche con queste mascherine perché praticamente il disegno ce l'avete già fatto ecco qua e andiamo a togliere la mascherina ed ecco qua la nostra terza stellina vado vado a metterla questa volta in lampada 60 secondi e lei è pronta è finita andiamo a creare la nail art con il gattino allora è lei sì perché il gattino lo devo mettere qui sotto e prendo e prendo la mascherina del gattino se volete poi l'elenco dei prodotti che ho utilizzato e i codici sconto per acquistarli con un po' di sconto andate poi nel mio canale youtube dove caricherò questo tutorial a questo video e inserirò lì tutto ecco qua lo voglio mettere un po' più in là e vado a schiacciare bene la mia mascherina cerchiamo di farla aderire bene perché se no il colore passa sotto ok riprendiamo il bianco il painting lo rimetto un po' sulla tabolozza perché l'ho finito ok prendo la mia spugnetta e vado a fare la stessa cosa che ho fatto nelle altre è veramente molto bella questa tecnica mi piace molto è spassosissima divertente chiunque davvero può riuscire a farla anche chi è le prime armi basta avere ragazze i prodotti giusti ecco qua il mio gattino volendo si può fare anche un pochettino più bianco più chiaro in questa maniera ecco qua voglio andare a mettere un pochettino più di colore nelle orecchie hai visto è la Mabelin sì ho proprio pensato a lei questa nell'arte l'ho pensata il giorno del compleanno della Mabelin ci hai preso Jessica forse ti ricordi che l'avevo fatto per lei ed ecco qua la nostra Mabelin guardate la meraviglia ragazze questa è veramente una cosa meravigliosa a me questa tecnica mi piace un sacco cioè io a mano libera non avrei mai fatto un gatto del genere perché sapete che io sono un po' impedita a mano libera e quindi guardate che bella poi facciamo le altre stelline quindi blocchiamo un attimo la nostra Mabelin il nostro gattino 5100 mi piace grazie grazie ragazze grazie mille faremo una volta la settimana tutte le sere tutte le settimane una sera la settimana una diretta così se vi può piacere seguitemi così se sarò in live voi lo vedete subito poi vado a mettere le stelline e le vado a mettere quassù così mi piacciono un pochettino più così ecco ok vado poi con il bianco a creare le mie stelline luminose e queste le voglio fare ci voglio mettere la polverina aurora ragazzi la tecnica con l'aerografo è una cosa meravigliosa vengono dei capolavori dei capolavori io non vi faccio vedere l'aerografo perché è complesso è un macchinario complesso ho fatto il corso di recente per l'aerografo per imparare ad utilizzarlo ed è abbastanza diciamo così ci vuole un po' di tecnica un po' di bisogna stare lì insomma ci vuole un pochettino e quindi adesso per ora non vi faccio vedere nulla magari più avanti vedremo se riesco a farvi vedere qualcosa anche con l'aerografo però intanto questa tecnica secondo me è una tecnica adatta un po' a tutte che anche chi è le prime armi può tranquillamente ripetere guardate che carina adesso io voglio andare a mettere un po' di polvere aurora su queste stelline lo faccio sempre senza polimerizzare e delicatamente perché ovviamente il colore non è polimerizzato volendo potete diciamo così bloccarlo un attimo in lampada qualche secondo tipo 5 secondi e poi fare la stessa cosa se non siete sicure ok vado in lampada 60 secondi e nel frattempo facciamo l'ultima nail art pianeta e stelline ecco qua questa vedete che avevamo lasciato libero il sopra vediamo se si riesce a vedere vedete che il sopra era più scuro non c'era il katai ok sì esatto per il terzo compleanno esatto e quindi metteremo le stelline sopra sotto un pianeta andiamo a prendere le stelline che sono loro dopo vi faccio vedere anche come pulisco queste mascherine se riesco a tirarle su senza fare danni ok ok e vado a metterle qua sopra le vado a schiacciare bene ok e adesso vado con queste devono essere sono molto piccole quindi potrebbero non venire benissimo se non siamo attente vediamo vediamo se vengono allora vediamo un attimo scarichiamo un po' il bianco e poi andiamo a colorarle ragazzi anche in questo caso io ho utilizzato un bianco ma voi potete utilizzare tutti i colori dell'arcobaleno potete anche pensare di farle colorate in maniera diversa o sovrapposte poi magari più avanti vi faccio vedere la tecnica delle sovrapposizioni e come utilizzare noi abbiamo utilizzato la maschera in realtà si possono utilizzare anche ad esempio i pianeti o le stelline che sono il ritaglio della maschera anche per creare delle belle sovrapposizioni di colori quella è una cosa ancora superiore un pochettino più complessa da fare però ci si arriva è molto è molto bello vengono le ragazze delle credetemi delle belle cose tra l'altro molto semplice per un lavoro da salone chi ha un salone ad esempio è molto bello perché comunque sia nel giro di pochissimo vi siete fatte una bella nail art la cliente contenta voi avete comunque risparmiato tempo perché comunque un'anel art fatta a mano magari richiede un pochettino più di tempo perché la perfezione che si ha nella tecnica nell'arte a mano insomma richiede tempo ok queste invece avete le vostre mascherine vi scegliete quelle che vi piacciono di più ce ne sono 10.000 ok vediamo se dovrebbe bastare così il colore queste qui mi sembrano ecco forse adesso dovrei averle riempite tutte bene e vado a togliere la mia mascherina ho di nuovo la calamita che mi si attacca alla pinzetta adesso la metto via ecco qua e vediamo le nostre stelline guardate la meraviglia quanto sono belle sono bellissime ragazze siamo arrivate a 6.000 mi piace grazie 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 andiamo un secondo a metto via il bianco se no mi si polimerizza a bloccare le stelline per non fare macello poi con la prossima mascherina ecco qui e poi andiamo a mettere l'ultimo pianeta ragazze guardate il macello quindi sempre con i guanti perché comunque queste sono tecniche che richiedono un attimo di colore quindi ci si sporca un po' vado a mettere il mio pianeta qui sotto alle stelline ok prendo il mio bianco vediamo se riesco a farmi bastare questo magari verrà un pianeta non ne voglio prendere dell'altro perché le ho finite di fare quindi sarebbe sprecato verrà un pianeta un pochettino più sbiadito ma è lo stesso così vi faccio vedere anche la differenza ed ecco qua ragazze questo è veramente veramente bello mi piace moltissimo faremo altre altre nell'arte di questo tipo se vi piacciono se vi sono piaciute ed ecco qui l'ultimo pianeta adesso voglio andare ragazze e mettere un pochettino di allora voglio andare a mettere un pochettino di polvere aurora anche nel pianeta ecco qua e vado in lampada 60 secondi intanto abbiamo la prima che vado a sigillare adesso abbiamo finito di fare l'anelarte andiamo a sigillare ragazze ragazze si sigillano queste nell'arte con un top coat ad alta densità perché va incapusulare bene i vari strati di colore HD quindi questo è extreme shine HD di Michelle e andiamo a sigillare tutta la tip guardate la meraviglia cioè la polvere aurora è un tocco in più l'HD non va messo troppo tirato nemmeno troppo abbondante però non va tirato ragazze perché se voi lo tirate si sfoglia però con le polveri va benissimo con i pigmenti va benissimo qui dovevamo spolverare la polvere aurora eccola qui che è rimasta solo sulle stelline e andiamo anche lei la spolveriamo bene perché poi andiamo a sigillare anche qui per il mio mi voglio riagganciare ragazze al al post che ho fatto e anche al video che ho fatto sul non mischiare i prodotti perché adesso io vado con l'Extreme Shine con il mio top a sigillare una nail art che ha una polvere sopra io penso di averla tirata via tutta quella in eccesso però potrebbe non essere così quindi anche se poi dopo aver passato il sigillante sopra la mia nail art vado comunque a pulire il pennellino perché magari ho lasciato è venuta su un po' di polvere aurora potrei non averla tolta tutta ok quindi non si miscelano i sigillanti perché la polverina che può essere rimasta qui dentro ha un peso specifico più pesante del liquido che c'è dentro quindi cosa fa affonda e rimane sul fondo sul fondo del nostro barattolino rimangono pigmenti polveri pelucchi che non ci accorgiamo di raccogliere spesso il primer il primer soprattutto quello acido quello non acido sotto ha spessissimo della polvere di limatura quindi non mescolate mai non travasate mai i vari prodotti anche se siete bravissimi avete tantissime clienti e lavorate tantissimo non c'entra nulla non è questione di quante clienti si hanno se si ha un aspiratore buono eccetera eccetera questi sono i miei consigli poi ognuno fa come crede anche lui la vado a spolverare l'ultima che abbiamo realizzato eh sì quella si trova sempre ovunque hai proprio ragione non solo tra l'altro il primer scusate ero fuori camera il primer non acido è appiccicoso quindi è più facile che andiamo a raccogliere della polvere di limatura che noi pensiamo ad aver torto benissimo pensiamo ad aver torto benissimo in realtà magari nel bordo nel giro cuticolare o nei valli laterali non è venuta via del tutto e con il pennellino del primer purtroppo può capitare che la tiriamo su non ce ne accorgiamo inseriamo di nuovo noi pensiamo ma in buona fede perché sono non sono errori queste sono cose che capitano normalmente soprattutto quando si lavora in salone che non si ha magari che si va un po' veloce quindi non si sta lì a pensare troppo queste cose riinseriamo il pennellino dentro il primer la polvere ha un peso specifico diverso del liquido questa ragazza è fisica cade sul fondo e rimane qui se noi andiamo a travasare poi il liquido da un barattolino all'altro noi buttiamo dentro anche quella polvere lì che non ci accorgiamo che ci si noi non ce ne accorgiamo perché spesso è trasparente quindi questi sono consigli poi ognuno ragazze veramente fa come vuole l'uno nel proprio lavoro fa veramente quello che vuole però io vi do questi consigli fate fate ciò che volete allora vi faccio vedere come pulisco le mie mascherine pad in cellulosa ragazzi mi raccomando i pad in cellulosa non i pad in cotone perché quelli lasciano i maledetti pelucchi mi raccomando non pad non utilizzate nemmeno i cotton fioc c'è chi utilizza i cotton fioc non utilizzate i cotton fioc vi prego si utilizzano i pad di cellulosa sono quelli migliori perché non rilasciano alcun tipo di di pelucco vado a pulire direttamente così le mie mascherine dal colore ok ecco qua sono come nuove pronte per un nuovo utilizzo ragazze queste sono le nostre nail art che abbiamo realizzato questa sera insieme ecco le qua queste sono quelle che avevo realizzato io ecco le qua io vi ringrazio di avermi seguita siamo arrivati a 6300 like sono molto contenta la prossima settimana sicuramente faremo un'altra nail art vedremo cosa fare seguitemi sempre grazie ragazze grazie mille di avermi seguita questa diretta la scarico la vado a inserire su youtube nel mio canale youtube Valentina appassionale nicotecnica dove inserirò in descrizione anche tutti i link dei prodotti che ho utilizzato e codici sconto così se volete ripetere questa nail art o fare qualcosa di simile avete i prodotti che ho utilizzato ragazze io vi ringrazio ringrazio soprattutto jessica di essere stata qui in diretta con me e di aver moderato la diretta grazie mille jessica ringrazio a tutte voi e buona serata a tutte vado a mangiare anche io ciao ciao ciao